che riguarda Nostradamus e le professe un avversario rosso diventerà pallido di paura grandi mette inondazioni una grandissima caristia Salve ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo video come state? spero tutto, tutto, tutto bene oggi volevo parlarvi di una super asml e volevo parlarvi appunto di un fantastico argomento che riguarda Nostradamus e le profezie del 2024 innanzitutto iniziamo a dire chi era Nostradamus Nostradamus era un profeta che profetizzava aveva delle visioni diciamo e ha pubblicato un libro appunto che si chiama le profeti e diciamo che tutte le profezie si sono avverate negli anni scorsi negli anni passati quindi non sto qui ad elencarli per annoiarvi però sappiamo appunto che si sono realizzate e quindi la prima profezia per il 2024 e vediamo appunto cosa prevedeva io naturalmente le andrò a leggere perché si sa che Nostradamus scrive delle quartine incomprensibili e criptate che sono gli studiosi più affermati sono riusciti a decifrarle quindi io adesso ve le leggerò così ascolterete bene le parole e poi andremo a commentarle allora cosa prevedeva per il 2024 allora combattimenti e battaglie navali un avversario rosso diventerà pallido di paura mettendo in apprezzione il grande oceano qua si inizia con un probabile riferimento alla Cina e a Taiwan in pratica c'è il timore per il 2024 che salga la tensione tra la Cina e Taiwan con 7 mesi dicono addirittura 7 mesi di conflitto che porterebbero portare appunto il dragone e c'è ovvero la Cina a scontrarsi successivamente con gli Stati Uniti poi abbiamo un'altra questa è la prima profezia la seconda profezia e il re sarà cacciato con forza qui andiamo a fare riferimento e viene annunciato che il re delle isole verrà deposto e rimpiazzato da uno senza segno del re e si pensa che questo sia riferimento al re Carlo d'Inghilterra e il suo successore senza segno del re quindi titoli nobiliari sarebbero suo figlio Harry quindi il suo successore sarebbe il figlio Harry che prenderebbe appunto il suo posto sconvolgendo in questo modo le sorti della monarchia e del regno unito insomma poi andiamo a fare riferimento a una terza profezia che riguarda il papa anche lo scorso anno avevano detto e quello prima ancora aveva predetto la morte del papa e la successione di un nuovo pontefice malvagio la previsione non manca anche quest'anno quindi adesso vediamo la quartina diceva così per la morte di un pontefice molto vecchio sarà eletto un romano che lo chiamavano appunto Pietro il romano non si sa perché Pietro però non mi chiedete perché un Pietro il romano di buona età di lui si dirà che indebolisce la sua sede ma a lungo siederà e in attività mortace allora è pur vero che il papa Francesco è molto anziano ma sono anni che questa previsione viene appunto predetta però dai fortuna che non sia ancora verata sappiamo che il papa comunque quest'anno ha avuto dei problemi medici che è stato ricoverato più volte quindi non si sa ecco non si sa come andrà cosa ci sarà comunque andiamo avanti un'altra previsione per il 2024 è praticamente la catastrofe ambientale allora la crisi climatica e la fame nel mondo sono gli argomenti che molto ricorrenti della quartina di Eustratiamus che adesso andrò a leggervi non mancano neanche quest'anno la terra secca diventerà più arida e ci saranno grandi inondazioni una grandissima caristia è causa di un'ondata pestifera quindi sarà proprio la crisi climatica a far aumentare la fame soprattutto nei paesi più poveri è vero che si continua a dire che ci sarà un periodo di carestia quello sì lo dicono da parecchi anni quindi bisogna appunto vedere cosa succederà speriamo che non succeda niente di tutto questo comunque vediamo allora l'ultima profezia che appunto si dice che si parla anche purtroppo del nostro paese dell'Italia si parla appunto della nostra nazione e per quest'anno viene annunciato anche un grande terremoto speriamo di no comunque io vi dico quello che sta scritto qua Nostradamus avebbe previsto uno a Napoli le profezie parlano molto chiaro parlano della terra che trema in una nuova città situata a 405 cioè per gli elio no del ecco di latitudine 405 di latitudine quindi danno anche praticamente la latitudine e dicono appunto così e e niente e dicono così che danno appunto questa latitudine nella zona quindi dei campi Flegrei a Napoli nella zona dei campi Flegrei e investita lo scorso anno da un'intensa attività sismica e è vero che abbiamo la e dicono che la la terra si è sollevata poi ci sono state anche e c'è il calo delle acque a causa di questo sollevamento dei campi Flegrei abbiamo avuto anche la discesa delle acque no a causa di questo sollevamento però adesso non se ne parla più abbiamo visto in Islanda quello che è successo speriamo non succeda anche qua da noi bene ragazzi con questo è tutto spero vi sia piaciuto questo mio video se ne volete altri fatemelo sapere ok ciao alla prossima ciao Grazie a tutti.